dal vangelo secondo marco capitolo 1 versetti 32 34 miracoli di gesù esorcismi al tramonto del sole si racconta nei vangeli secondo matteo marco e luca che gesù al tramonto del sole vedeva riunirsi attorno a lui infermi che provenivano dalla città con varie malattie egli imponendo le sue mani su di loro li guariva e scacciava anche i demoni presenti in essi molti demoni gridavano allora tu sei il figlio di dio ma gesù li zittiva questo racconto di vari miracoli è scritto dopo quello della guarigione della suocera di pietro dal vangelo secondo marco capitolo 1 versetti 32 34 miracoli di gesù esorcismi al tramonto del sole dal vangelo secondo marco capitolo 1 dal versetto 32 al 34 poi fattosi sera quando il sole fu tramontato gli condussero tutti i malati e gli indemoniati tutta la città era radunata alla porta egli neguari molti che soffrivano di diverse malattie e scacciò molti demoni e non permetteva loro di parlare perché lo conoscevano